Perché anche nei giorni scorsi sono state sottolineate, insomma come alcuni hanno sottolineato, come parte delle cose pubblicate alla pressa fossero così non documentate, in realtà lo ribadiamo, abbiamo pubblicato un dossier specifico e documentato sull'attività di incenditore, dossier firmato da Modena Salute e Ambiente, al quale ad oggi ERA non ha dato risposto. Ovviamente siamo disponibili a ogni tipo di replica da parte di ERA, oggi ci soffermiamo in questa diretta, mentre il fumo dall'incenditore si vede meno, proprio perché in una giornata serena il fumo che esce è meno visibile, ma nulla cambia, acceso lo sappiamo, 365, 350 giorni all'anno, 15 giorni circa d'estate di fermo, diceva oggi ci soffermiamo sui costi di gestione, questo impianto costa ERA 29.517.000 euro di costi di gestione all'anno, circa 100.000 euro al giorno, questo è quello che costa questo impianto al gestore, ovviamente gli introiti sono superiori perché tra finanziamenti e quello che costa il costo appunto al cancello dei rifiuti, parliamo di circa 110-120 euro a tonnellata, buona parte di queste risorse appunto rientrano le casse della multiutility, che ricordiamo è gestita attraverso un patto di sindacato dal pubblico, quindi i comuni sono proprietari di questo impianto. dal punto di vista del disagio ambientale, cioè nel senso ogni tonnellata che viene smaltita, era per un patto che ha col comune di Modena, riconosce al comune di Modena un indennizzo per disagio ambientale, quindi il nome è proprio questo, di fatto quindi si riconosce come questo impianto provochi un disagio, almeno un disagio, un termine chiaro molto neutro, ma insomma un disagio ambientale, indennizzo per disagio ambientale, di 8,33 euro a tonnellata, questo è quello che ERA riconosce al comune di Modena e quindi ai cittadini come disagio di quanto questo impianto provoca. Ecco vediamo, forse in questo momento il fumo si rifà denso, e lo ricordiamo un impianto che brucia circa 240.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno a fronte di una produzione in provincia di Modena della metà, noi produciamo 120.000 tonnellate, produzione tra l'altro in diminuzione grazie alla raccolta differenziata, ma questo impianto brucia comunque questa quantità di immondizia, un impianto, lo rivediamo, che pesa nelle casse di ERA circa 29.500.000 all'anno. Le alternative, anche questo, molti lettori della pressa, anche attraverso queste dirette, che riprendono un po' i concetti pubblicati nel dossier in 15 puntate, lo ricordiamo, del Comitato Modena assolutamente, hanno sottolineato, ma non vi è alternativa. A parte che le alternative sono sottolineate da più parti, a partire appunto da una raccolta porta a porta puntuale, ma ad oggi è vero che una parte di rifiuti raccolti in modo, cioè sono indifferenziati, quindi in qualche modo vanno sbantiti. Però, lo ribadiamo, l'alternativa già oggi è quello di usare alla metà le potenzialità di questo impianto, perché il fabbisogno modenese è la metà, meno della metà. Si dice per solidarietà questo polo provinciale accoglie rifiuti a fuori provincia, però molti sottolineano come questa sia una cosa assolutamente, almeno da un punto di vista così logico, non sta in piedi, perché questo impianto, questa solidarietà rispetto ad altri territori, viene praticata in un territorio che, lo sappiamo, è tra i più inquinati non solo d'Italia, ma d'Europa, quindi una solidarietà che pesa su un territorio già inquinatissimo. Saremo noi, teoricamente, a dover avere la solidarietà di altri territori meno inquinati e quindi a non dover pesare sul nostro territorio, a far pesare sul nostro territorio anche il dover bruciare i rifiuti. Chiudiamo anche questo diretto, oggi siamo concentrati, ripeto, sui numeri, sulle cifre di quello economiche, di quello che vale questo impianto, siamo disponibili, come sempre, ad accogliere ogni replica da parte del gestore. Ci soffermeremo ancora su questo impianto, alla prossima puntata, sempre utilizzando i dati, li ringraziamo del Comitato Modena Salute Ambiente. Buona giornata a tutti!